buongiorno a tutti e bentornati anzi buon capodanno scusa tatti ma cosa stai dicendo oggi è il primo marzo non è neanche segnato in rosso sul calendario scusami ma tu che veneta sei che non sai neanche che giorno è oggi lasciami controllare anche sull'agenda vediamo lunedì primo marzo 2021 guarda al massimo oggi è san albino no oggi non è semplicemente san albino o chissà quanti altri santi oggi è il giorno in cui tradizionalmente nella repubblica serenissima iniziava l'anno nuovo superati i mesi più freddi di gennaio e febbraio infatti nella repubblica veneta l'anno nuovo si festeggiava il primo di marzo inizialmente la tradizione voleva che il capodanno fosse il 25 marzo cioè il giorno della fondazione di venezia ma è stato poi per comodità spostato all'inizio del mese di marzo questa data fu scelta non a caso perché stava a simboleggiare il ritorno alla vita con la primavera e l'inizio delle attività agricole dopo i mesi invernali già tradizioni più antiche come i greci facevano iniziare l'anno a marzo anche loro il giorno 25 secondo la leggenda infatti era quella la data della creazione della terra anche i romani prima dell'introduzione del calendario giuliano facevano iniziare l'anno durante il mese di marzo poi però spostarono la data al primo gennaio momento in cui entravano in carica i nuovi consoli il nuovo calendario giuliano prima e gregoriano poi mantiene la tradizione del primo gennaio tranne che nella repubblica veneta dove invece l'anno cominciava ufficialmente il primo marzo con l'introduzione del calendario gregoriano nel 1582 per la repubblica fu necessario adottare una nuova terminologia che identificava l'utilizzo del calendario gregoriano o di quello veneziano quindi accanto alle date espresse con il conteggio veneziano fu posta la espressione more veneto cioè secondo usanza veneta quindi per fare un esempio febbraio 2021 per il calendario veneziano in realtà è ancora febbraio 2020 quindi in veneto siamo ancora nel 2020 a no beh da oggi è capodanno quindi siamo nel 2021 se non siete molto convinti di questo conteggio piuttosto strano che abbiamo nella repubblica serenissima basta pensare ai mesi così come li chiamiamo in italiano per esempio il mese di settembre richiama proprio all'interno della parola il numero 7 e se contiamo i mesi a partire dal primo di marzo effettivamente settembre è il settimo mese e non il nono ottobre è l'ottavo e non il decimo novembre è il nono e non l'undicesimo e dicembre è il decimo e non il dodicesimo facile no mi interesserebbe sapere quanti di voi amici veneti sapevano di questa ricorrenza che cade oggi piuttosto anche importante perlomeno fino al 1797 anno in cui è rimasta in piedi appunto la repubblica di san marco considerato che in questo periodo non abbiamo tanti buoni motivi per essere felici mi sembrava carino regalarvi una giornata in cui poter festeggiare quindi magari oggi un brindisi ci scappa al nuovo anno veneto se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e aiutami a far crescere la mia pagina buon capodanno a tutti anzi come diciamo in veneto bon caudeano a tutti ciao ciao